Ragazzuoli siamo all'interno del mio server Minecraft, che novità vero? Beh, credo che manchi solo tu che stai guardando questo video ad entrare nel server. Questo è l'IP, devi entrare subito, immediatamente. E ragazzuoli sapete una cosa? Quest'oggi è un video un po' diverso dal solito, un video che non ho mai fatto per il semplice motivo che ho visto che qualcuno è entrato all'interno della mia modalità per registrare un video. E sapete cosa ho pensato? Mmm, direi che è arrivato il momento di iniziare a trollare qualcuno. Perché no, ragazzi? Voglio proprio, proprio, proprio trollare un grande mio bellissimo amico di nome Carpi. Perché, ragazzi, è entrato nel server e molto probabilmente, ragazzi, starà registrando un qualcosa per il suo canale. Quindi ho detto, ok, perché non trollarlo? Ma bella, 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 tutto bene? Oggi, ragazzi, siamo qui nella survival di MetaMC. Dovete lasciare subito un bellissimo mi piace. Se questo video raggiunge il suo per i 1000 like in 24 ore, andrò a trollare un altro youtuber e fatemi sapere nei commenti chi altro youtuber trollare. Ora mi sono trovato Carpi all'interno del server e ne ho approfittato. Quindi fatemi vedere dov'è chi è Carpi. Allora, io mi vorrei tippare. Prima di tutto andiamo in modalità Banish, in modo che lui non mi può vedere e vado a tipparmi da Carpinit. Ma, ma, ma Carpi. Ah, è proprio lo spawn. Ok, non ha nulla. Sembra praticamente... Stai facendo screen. Cioè, cioè, Carpi, davvero stai facendo screen? Prima queste. Spammiamole tutte così. Tanto, che mi importa? Sono ricco. Baule VIP. Croccante, appunto giusto. MetaCoin. Mamma mia. Sto facendo letteralmente giri su giri su giri su giri. Però sapete cosa? Mi è venuta un'idea ancora 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 più carina. Fermi tutti. Andiamo a fare un RTP mentre lui si fa la sua intro e tutto il resto. Togliamo la modalità Banish. Ragazzi, fermi tutti. Slash skin AeroBrain. Perfetto. Perché sapete cosa? Perché non trovare la con la skin di AeroBrain? Ora, usciamo e rientriamo. Guardate un po', ragazzi. Oh, oh, oh. Molto, molto meglio. Sbaglio. Bene, perfetto. Ora, voglio un attimo andare a vedere sempre in modalità Banish in modo che nessuno mi vede. Andiamo un attimo a tipparci da Carpi. Posso sapere che sta facendo Carpi in questo momento? Ma sta prendo veramente le chiavi. E allora, IMS e Carpi. Cosa è nell'inventario? Oh, 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 oh. Guarda quanta roba sta prendo. E ha anche il bundle Summer OP, il Carpi. Fantastico. Oh, ok. Ha trovato qualcosa di potente. Quindi molto probabilmente lui sta qui. Ok, ora non lo so se lui ha già qualche casa o una cosa del genere. Non ne ho idea, ragazzi. Però so che appunto ha ancora un bundle Summer OP da aprire. Quindi ha chiavi Summer, chiavi Survival, chiavi Epic e così via. Ha anche 40 Metacoin e 2 Fortuna. Sono proprio curioso di sapere adesso cosa diavolo vorrà fare con questo bundle Summer OP. Cioè, davvero sta... Lo vuole piazzare a terra allo spawn. Non può piazzarlo a terra allo spawn. Cioè, Carpi. Oh, oh, oh. Fermi tutti perché Carpi si è teletrasportato, ragazzi, da come vedo. Esattamente. Oh, ha anche la sua casettina. Perché Donayaki di Carpinit, oh, ha la sua casettina. Fantastico. Quindi, uovo di rana. Ho ben capito perché esista sta roba. Però, boys. Direi che abbiamo perso abbastanza tempo. Vorrei andare un attimo in miniera. Vorrei andare un attimo in miniera. Trovarò qualche diamante. E giusto per capire come funziona l'economia. Mi vado a salvare la home di Carpi. Così noi possiamo tranquillamente andare via, tornare, fare tutte queste cose. Ecco. Si sta mettendo tutta l'armatura Warden addosso. Cosa vuoi fare? Bene, allora. Come primo troll direi un attimino di andare. È un attimino incredibile. Tanto lui non mi vede effettivamente. Non mi può vedere. Sono immortalizzato in Vanish. Non mi vede, non mi vede nessuno. E iniziamo a prendere della terra. Ora, appena lui si allontana, magari io posso iniziare a mettere tipo un blocco di terra qui. Così, a caso. Completamente a caso, ragazzi. Un blocco di terra qui. Ovviamente dobbiamo iniziare molto, 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 molto semplice. Perché c'è una rana lì? No, ve lo giuro, quella rana non l'ho spawnata io. Ve lo giuro, non l'ho spawnata io. Quindi non ho idea di che cosa diavolo c'entra questa rana qui, ma non ho fatto nulla. Forse l'avrà spawnata Carpi. Non ne ho idea, però io ho messo un blocco di terra qui davanti. Che appena esci da casa, ragazzi, se lo dovrà proprio ritrovare in faccia. Quindi, in ogni caso, signor Carpi, per forza dovrà vedere questo blocco, no? Essendo che non se n'è corto, ancora non sto uscendo, gliene piazzo un altro tipo di fianco. Ok, due blocchi così, ragazzi. Cioè, nel senso, per forza se ne deve accorgere. Come non se ne fa ad accorgere, Carpi? Puoi uscire da casa tua? È impossibile, ragazzi. Oh, ok, ok. Non si è reso conto di questi blocchi. Non si è reso conto di questi blocchi. No, è fuori di testa questa cosa. Ok, però adesso che si è allontanato. Meglio per noi, vero? Ok, ok, si è allontanato. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, ora. Prendiamo una spada. Benissimo. E con la spada, sai cosa? Boom, uovo di rana. L'andiamo ad ammazzare la rana come prima cosa. Dopodiché fammi vedere cosa è che gli posso fare. Ha comunque un bel po' di cose. Kit of Warden. Sì, ha comunque cose belle, belle OP. Voglio un attimino vedere, ragazzi, perché adesso io cosa vado a fare? Vado a prendere, per esempio, della netherrack e della terra. Inizio a spargere tutta quanta la terra dentro casa sua. Magari in questo modo. Tac, esattamente. Bella, bella, tranquilla. Stessa cosa. Oh, ma posso fare una cosa, ragazzi? Slash land, delete, dorayaki. Boom. E vado a rimuovere anche la land. In modo che, ragazzi, gliel'ho completamente rimossa. E lui appena tornerà non vedrà più... Oh, sai che è qui vicino? Non ho idea, ragazzi. Ok, no, sembra di no. Perfetto. Possiamo continuare con il nostro troll e andiamo a mettere tutta quanta terra dentro casa. Ok, benissimo. Ora, una volta che lui rientrerà a casa, ovviamente si ritroverà la casa piena di terra. Voglio vedere un attimino dov'è che sta andando. Tipi i Carpinnit. Sta andando in giro per il mondo. Così a caso, va bene. Allora, io in questo caso posso tornare nella home di Carpi, che è questa qui, e mettere solo della terra. Per il momento voglio solo mettere della terra, niente di più. Voglio mettere terra tutta quanta intorno. La vedrà anche dentro casa. Bella, bella, tranquilla. Vediamo, Carpi, dov'è... Oh, che sta facendo al warden? Ma perché sta andando dal warden? Ragazzi, è croccante. Allora, set home, fermi. Allora, slash home. No, non ho il permesso. Ok, mi metto il segnalibro. Fermi. Facciamo così, va? Però io voglio tipo lanciare qualche cosa addosso. Ok, prendiamo tipo delle palle di neve. Oh, ok, ok. Credo che se ne sia reso conto adesso, in questo momento. Ok. Voglio attivare un sensore, voglio attivare un sensore. Ancient... Voglio attivare un altro sensore, via, 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 via. Ok, via, via, via. Perché? Ma sono io? Dai, salta... Ok, credo che adesso spuni il warden in questo caso. Sono tre suoni. Credo che sia spuni il warden e carpi se ne sta andando. Oh, ci sono anche dei creeper. Ok, sapete cosa? Mettiamo gli tanti creeper dietro. Ma che sta succedendo? No, è impossibile. È impossibile, è impossibile. C'è un owner, di sicuro. Qualcuno mi sta trollando. È incredibile. Abbiamo il warden, carpi, ti conviene scappare. No, davvero vuole affrontarlo? Ok, io ho messo un sacco di creeper dietro. Ma? Ma è tutto rotto qui, scusami, non ho capito. Ma è normale? Guarda quanti creeper ci sono. Non ci credo, non ci credo. Perché, perché? Carpi, credo che ti conviene scappare. Carpi, credo che ti conviene scappare. Ok, se ne sta andando via, se ne sta andando via. Perfetto, 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 perfetto. No, non è normale sta cosa. Qua è successo? Ma perché spuneavano creeper? Era tipo una wave di roba. Qualcuno è entrato in casa mia. Qualcuno è entrato in casa mia. Chi mi ha messo la cacca in giro? Ok, credo che adesso se ne renda conto, ragazzi, che effettivamente c'è della terra dentro casa. Ok, bene, bene. Ora possiamo passare al prossimo troll con delle croci di Aerobrine. Quindi, in questo caso, in modo che tanto lui adesso teoricamente sta vedendo effettivamente cos'è che sta succedendo. Questo posso fare io. Posso andare a mettere tipo dietro casa sua delle croci. No, non me ne devo far accorgere, però. Prendiamo anche un flint still e mettiamo tipo una croce qui in questo modo. Boom, non la vado a accendere. Solo una croce. Solo in questo modo una croce. Ne voglio andare a mettere anche un'altra qui. Un'altra qui. Ne metto un'ultima da questa parte. E boom, abbiamo messo ben tre croci di Aerobrine. Ora, lui teoricamente dovrebbe vederle solo uscendo da casa sua. Tra l'altro non so se si è reso conto che ha perso anche il claim, ragazzi. Ok, piano, 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 piano. Ogni cosa al suo tempo. Perché guardate, ragazzi, la cosa più bella è che poi andremo a rivelarci come Aerobrine. Guardate qui, Effect Clear. Oh, oh, oh. Bene, non ci preoccupiamo adesso di questa cosa. Andiamo a rimetterci l'invisibilità. Ed essendo che è notte e lui non vuole uscire, andiamo a mettere Slash Day. Boom, cambiato teoricamente il tick. Quindi teoricamente ora lui dovrebbe vedere solo giorno. Non si è davvero reso conto di queste croci? Ok, non è importante se ne sta andando. Sicuramente sta andando a fare un giro. E io ne posso approfittare ancora di più mettendo anche una croce dentro casa. Ah, ha pulito tutta la sua casa. Non è andato nel piano di sopra e non ha visto che effettivamente anche sopra c'è della roba. Vado a mettere anche una croce in questo modo dentro la sua casa. Bene, boom. E vado, vediamo, vediamo se ha qualcosa da rubarli. Non dovrebbe per nulla. No, va bene, non è importante. Non è importante, non è importante. Ne vado a mettere però una proprio davanti a casa sua. Quindi in questo modo. E un'altra bella croce ce l'abbiamo. Questa qui però la vado ad accendere. Bene, ora tippiamoci da Carpi. Dov'è che è? Sta andando in giro per il mondo. Va bene, va bene, va bene. Fantastico. Ragazzi, summon lightning. E vado a spawnare un lightning, quindi un fulmine, vicino qui. Quindi se io ad esempio prendo queste coordinate e vado a fare summon lightning. Lì tra i tuoni a caso. Sembra che tipo ogni volta che entri in sta zona suggeri qualcosa. Credo se ne si è reso conto. Ok, gli ho spawnato un altro fulmine, ragazzi. Piano, piano. Vuole ammazzare il Warden, molto probabilmente. Ok, calmi, guarda, c'è il Warden qui. Totem per sicurezza. Non è normale. Raga, è spawnato un Warden OP? Vediamo se si rende conto di questa croce, ragazzi. Si ne deve assolutamente rendere conto. Voglio spawnare tutti i fulmini qui. Dovrà salire sopra a vedere la croce. Devi vederla in qualche modo, ragazzi. Devi vederla. Oh. Oh. Non l'ha vista? Scendiamo con cautela. Senza farci vedere del Warden. Che tosto rumore! Per me mi stanno trollando. 100%. È incredibile. Allora, o sono pazzo io, o il Warden si è messo a fare le croci su Minecraft. Con la netherrack. Mettiamo un altro fulmine qui. Oh. Oh. Carpi, credo che si sta spaventando. Bene. Ora, quello che voglio fare, ragazzi, è farlo tornare a casa a tutti i costi. Credo che stia scappando. Torna a casa, Carpi. Torna a casa. Ok. Andiamo anche noi a casa, ragazzi. Perfetto. E gli sto facendo trovare delle croci. Quindi sapete cosa? Io ne faccio trovare a questo punto anche un'altra qui. Quindi, boom, in questo modo. E queste le andiamo anche ad accendere. Boom. Voglio mettere un'ultima da questa parte. Ok. Boom. E andiamo ad accendere anche questa. E deve solo tornare qui e appunto accorgersene di tutto questo casino. E sapete cosa vado a fare? Qui vicino c'è dell'acqua, esattamente. E vado a fare slash slash replace near 100 water lava. Oh mio. È completamente... Ragazzi, è completamente tutta lava. C'è la casa di Carpi infestata. Ok, slash night. Andiamo a mettere anche notte. Ok, ragazzi, se tu torna qui si prende una paura che non avete idea voi. E sapete cosa? Voglio prendere anche dei log in questo modo. E del legno. Voglio andare a creare una casettina. Tipo qui vicino ora a lui. Non so se sta tornando. Quindi noi creiamo tipo una piccola casettina qui. Tanto... Ragazzi, non se ne deve accorgere adesso in questo momento. Se ne deve accorgere tranquillamente dopo. Quindi ora, stiamo attenti che non torna. Ok, non sta tornando. Perfetto. Quindi, chiudiamo, diciamo, la casa. In questo modo deve essere una piccola casa, ragazzi. Perché lui, incuriosito, ragazzi, cosa andrà a fare? Oh, andiamo a vedere cosa c'è dentro con la casa. E troverà Aerobrine. Quindi ora c'è tutta lava intorno. Perfetto. Sapete cosa? Voglio andare a fare anche qui, quindi rifacciamo il comando. Così si copre anche tutta questa zona di lava. Fantastico. Ora, muoviamoci, ragazzi. Costruiamo una piccola casa in questo modo. Quindi, boom, 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 al volo. Che poi non deve essere più di tanto una casa, ragazzi. Deve essere tranquillamente una zona in cui, appunto, lui può entrare e direttamente trovarsi Aerobrine davanti. E lì, fidatevi che se la farà sotto, ragazzi. Non sto scherzando. Quindi, andiamo a mettere tutta questa roba qui. Ok, fantastico. Non fate rumore. Non dovete far rumore. Non dovete far rumore. Posso togliere questo con la zappa? Andiamo a chiudere anche da questa parte e, teoricamente, boom, ci siamo. Ora, boom, 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 boom. Mettiamo anche degli oak log qui da questa parte, quindi oak planks o come planks, quello che sia. Togliamo tutta questa erbetta e, ragazzi, non rimane altro che mettere, che chiudere tutto qui. Perfetto. E poi farmi vedere in questo modo. Guardate, boom. Guardate come in questo modo. Proprio come Aerobrine. Quindi, ora, non rimane altro che aspettare che Carpi torna a casa. Guardate che bello, ragazzi. Immaginate che si ritroverà Aerobrine in questo modo. Ok, ragazzi, si morirà di paura. Ora, io lo so, io lo so, io lo so, io lo so, lo so, lo so. Sono pronto, ragazzi, per aspettare Carpi. Il problema è capire un attimino dov'è che si trova. Quindi proviamo un attimino a vedere dove è. Mi sono tippato, ovviamente, ragazzi, in modalità vanish. Così lui non mi può vedere. È ancora nell'Anzian City. Ma vuole proprio morire. Carpi è incredibile. Devo trovare in modo, ragazzi. Lui deve tornare a casa. Deve per forza tornare a casa. Deve per forza tornare a casa. Sono spawnati due Warden. E non torna a casa. È impossibile questa cosa. Sponiamo gli qualche fulmine. Ok. No, sto rischiando troppo. Sto rischiando troppo. Ok, che ho il totem e tutto. Ok, ok. Bene, 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 bene. Gli attivo anche tutti questi sensori. Così dovrebbe spawnare teoricamente. Ma perché sti tuoni? Ok, un altro Warden dovrebbe spawnare. Dimmi di sì, dimmi di sì. Ragazzi, stanno andando tutto per il verso giusto. Sponiamo un altro fulmine. Lui dovrebbe stare per tornare a casa. Fermi. Via, prima che Big Boy, Lebron James, avviene qua. Andiamo a togliere la motorità Vanish. E rimaniamo con Herobrine. Cacca, ancora! Come può... Ok, è letteralmente dentro casa. Sta controllando tutto quello che c'è. Sta togliendo di nuovo tutta la terra. Ha rimosso le croci, ma non è ancora uscito fuori, ragazzi, a vedere tutto. Voglio mettere le notte, ragazzi. Molto meglio. E gli vado anche a mettere Weather, Thunder, Storm, quello che sia. Quindi pioggia. Posso mettere tipo Thunder e temporali anche? Perché no? Sì, 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 sì. Il metano diceva pioggia. Ma che è successo? Che noi stiamo? Ma che sta succedendo? Ma ho noi vicini, a caso? Ho i vicini, ho le croci. Una volta, ragazzi, che lui aprirà, io sparirò totalmente. Mi deve vedere per all'incirca un secondo, una roba del genere. Dai, signor Carpi, sto aspettando. Dove sei? Eh, Robert, ti sto aspettando, Carpi. Sì, 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 dove sei? Ok? Stanno andando dietro casa? Per favore, vedi questo cubo, vedi questo cubo. Ok? È qui? È qui? Nella mia land, esatto. Com'è che c'è finito lì dentro? Non ho un'ascia. Spacco a pugne. Lo spacco con un cristallo. Fermi un attimo. No, no, spacco con l'ascia. Adesso mi spacco. C'è una TNT o qualcosa? C'è i cristalli. Però non voglio distruggire tutto. Voglio dare una sorta di avviso. Fermi. Ok. Adesso prendo tutta la sua netherrack e gliela cospargo in giro. Ok? Facciamo così. Guarda. Facciamo così. Ma di chi è sta casa poi? Ma posso griffare? Che spavento. Ho tolto la pioggia ora. Perfetto. Ok, no. Fermi. Vuoi entrare. L'ha visto? L'ha visto? Dimmi di sì. Chi è? Chi è? Non voglio più giocare. Non voglio più giocare. Basta. Non voglio più giocare. Lo voglio seguire. 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 Ok. Mi metto dentro casa. Davanti alla sua porta. Guardarlo, ragazzi. In questo modo. Ok. Ok. Sì. Sì. No. Sì. 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 Bene. Lo stavo continuando a fissare. Ora mi tipo in giro. Quindi mi posso mettere tipo qui a guardarlo. Oddio. Ma che è sta roba? Ma che è sta roba? Ma non è normale. Non è normale. Non è normale. Non è normale. Mettiamo la pioggia. Mi avvicino sempre di più. Posso ucciderlo? Fermi. Fermi. Lo voglio uccidere. Lo voglio uccidere. Lo voglio uccidere. Fermi. Fermi. Se mi giro all'overo li tiro una perra. No. Che cosa? Ok. Ok. Si è fatto esplodere la casa da solo. Non ci credo. Ma si è reso conto che effettivamente, ragazzi, c'è tutta questa lava in giro? Non so se ne è reso conto. Portiamolo qui. Valli è il best fundereo. Vedi che è Valli? Valli, sei tu. Lo so. Valli, sei tu. Lo so. Se lo sto prendendo con Valli. Ok. Lo voglio guardare. Voglio che vieni qui. Carpi, sono da questa parte. Mi vedi? Avviciniamoci ancora, avviciniamoci ancora, avviciniamoci ancora. Bro. Ah, non possiamo fare più. Non c'è PvP? Non posso ucciderti? Uffa. Volevo ucciderti, sai? L'hai visto? L'hai visto anche tu? Guarda, ha scritto ma. L'hai visto anche tu? Sta appena tippato un giocatore. Ok. Fermi. Vado a cambiare un pochettino, tipo, metto day, poi metto notte, day, day, notte e mi tolgo. Ok. Oh, vuole ammazzare. Non ci vuole uscire, Carpi, mi dispiace. Mi sta ruotando. Non mi ruotare. Bravo, bravo. Non si ruba. Ora, ragazzi, effect give Carpinit darkness. Dieci secondi. Cioè, vi pare il modo? Ti pare il modo? Vieni qui, Carpi. Vedi che c'è tutta lava o sbaglio? Gli rimettiamoci di nuovo darkness? Ok. Basta, va lì. Va lì, hai rotto le scatole. Sto cercando di ammazzarmi in tutti i modi, ragazzi. Ma non ci vuole riuscire. Ok, mettiamo giorno. In modo che lui possa vedere tutto questo lago di lava enorme, ragazzi. Vado ad ammazzare il signor Nico. Boom. Lo faccio morire davanti a lui. È colpa sua. Giuro che è colpa sua. È colpa sua. Valli, è colpa tua, bro. È colpa tua, Valli. Sto benissimo che è colpa tua. Bene, 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 ragazzi. Credo che se ne è accolto. Guardate tutta questa lava. Valli, non è che mi tro... È inutile che mi trolli. Un po' mi spaventa. Vado a vedere una cosa? Un po' mi spaventa. Ho fatto una serie di horror sul mio canale YouTube, ragazzi. E ora? Slash, slash, undo. Muro di ossidia. Brrrr. Oh, dove è andato? È completamente uscito, Carpi. Ok, ok, ragazzi. Credo che sto completamente impazzendo. Ora voglio rimettere la lava. Boom. Ho rimesso completamente la lava. Effect, give. Carpinit. Darkness. Io volevo fare un video bello, ma è stato rovinato in questo modo. Mi sa che devo rifare il video. Ora. No! Vuole provarmi ad uccidere. Non riuscirà mai. Ragazzi, la sua casa deve esplodere. La sua casa deve esplodere. Voglio completamente andare a fare slash slash wound. Prendere qui. Prendere questo angolo. Slash slash. Post 2. Slash slash. Set. Zero. E al posto della casa, ragazzi, togliamo tutto quanto. E andremo a prendere della netherrack. Anzi, qui chiudiamo di nuovo con tutto il grass block. Quindi, in questo modo. Slash set. Grass block. Perfetto. Prendiamone della netherrack. E andiamo a mettere una mega croce gigante. In questo modo. Qui c'è questo tavolo che non posso togliere. Vabbè, non è importante. Non è importante. Non è importante. Andremo a creare una croce gigante. Quindi, andiamo ad alzarlo un pochettino. Ok, ragazzi, ora mi diverto. Ora mi diverto, signor Carpi. Vieni qui, vieni. Appena vedrà, ragazzi, che la sua casa non c'è più. E letteralmente c'è una croce. Ok, impazzirà. Perfetto. Quindi, andiamo a creare una croce in questo modo. E andiamo ad alzare questi due. Direi che ci siamo, no? È una bella croce, vero? Bene. Prendiamo un flintestill. E ovviamente vado ad accendere tutto quanto. La croce è bella pronta, ragazzi. È in mezzo alle fiamme e mi metterò io in questo modo. Voglio solo aspettare che Carpi si avvicini in qualche modo. Dovrà pure avvicinarsi, no? Allora, io, ragazzi, ho visto... Ma che è? È un episodio di Dragon Ball? Ma che è? È il Dragon Sharon! Smettetela di rinterrompermi in questo momento che sto assistendo a una cosa molto croccante. 1v1? Scendi! Ragazzi, questa è OP. Con un hit lo faccio fuori. Dov'è casa mia? Dov'è casa mia? Cioè, ci sono appena arrivato adesso. Mi voglio di parere da lui, ma voglio aspettare, ragazzi, perché lui ora sta scappando. Sta letteralmente scappando. Va bene, va bene. Ci penso io, ragazzi. È arrivato il momento finale. Io ora ci penso io, ragazzi, agli miei. È arrivato il momento di farlo fuori. A tutti i costi. Carpi, è la tua fine. Slash kill Carpi in it. Boom! No! No! Questo non l'accetto. Questo non l'accetto. Andiamo a fare I'm Disguise. Player Marcus. E torniamo, ovviamente, in Marcus. E boom, 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 boom. Ci siamo, ragazzi. Siamo con il mio account. No, vediamo l'è finito, Carpi. Intanto possiamo tranquillamente... Oh! Prendiamo un cartello e gli diciamo direttamente di venire su Discord. Ah? Venire su Discord. Lo sto chiamando, lo sto chiamando. Carpi! Ciao. Che ci fai nel mio server? Allora, praticamente, Valli mi fa che... Cioè, anzi, io ho chiesto a Valli di darmi un paio di cose per fare un video. E oggi mi fa Vinion che ci sono ora. Poi sono successe 30.000 cose. Che vuol dire? Carpi? Giusto per sapere una cosa. Valli, per caso, è entrato prima? Sì. Quanto tempo fa? È online adesso. Ma non lo vedo io in tab. È perché è owner. Però si vada a fare... E che vuol dire? Anche tu sei owner, però ti vedo. Ora lo vedi? Sì. No, non lo vedo. Ah, ora sì. Eh, non lo so. Ma perché c'è una croce? Scusami, perché mi hai chiamato su Discord? Per sapere... Giusto per sapere. Come stai andando nel server? Tu, bro, no. Tu non è che di punto in bianco metti i cartelli, vieni, dici, vieni, vieni su Discord. Eh no, volevo sapere come stai andando nel server, è tutto ok? Perché stai ridendo? Non sto ridendo. Perché stai ridendo? Perché stai ridendo? Ok, 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 allora te lo dico, te lo dico, Carpi, te lo dico. Era Valli. Non serve che me lo dica. Sono Detective Conan, so benissimo che sei stato tu. Come fai a saperlo? Non lo so, perché ti sei messo a ridere, non che ne so io. Allora, io ti posso dire solo che è stato Valli. Ti do la conferma che è stato Valli e non ho fatto nulla, te lo giuro. E perché, con quale tempismo è successo tutto questo e tu magicamente sei comparso ora così? Spiegamelo. Va bene, cari. Visto? Visto? No, visto? 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 Mi sono divertito. Eh, ma hai rovinato il video però. No, come hai rovinato il video? Non ti sei divertito? Sì. Eh, ma io volevo mostrare cose, ma mi hai tolto cose, mi hai tolto la casa. Guarda, io sono tornato indietro, c'è una meca cruci. Ma che? Dov'è la mia casa? Cioè, tu mi hai messo un vicino che non esiste e era... Guarda, non so neanche cosa dire, guarda, non so neanche cosa dire. Ho trovato Irobrine in caverna e Warden che usciva ogni due angle, non lo so. Guarda, non lo so. Ti sei divertito, no? Sì. Ok, l'importo è bello. Moltissimo. Dai, allora. Moltissimo, certo. Ragazzi, mille like, nuovo troll a Carpi. Ti farei... No, non arriviamo i mille likes, forza. Va bene, Carpi, dai, ora ti posso... Ora ti puoi divertire. Tranquillo, ti puoi divertire. Ok. Forse. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Troll riuscito. Ci ha sgamato la fine perché io non sono riuscito a trattenere le risate, ma... Perfetto. Fatemi sapere chi altro trollare. Ma, ragazzi, io non so dire... Occhio che posso trollare anche alcuni di voi, eh. Ve lo dico. Quindi, entrate nel server.